Salve e benvenuto o benvenuta a questa ulteriore lezione in cui andremo a vedere come creare utenti in Office 365 perché poi possano essere coinvolti ed utilizzati in tutte le applicazioni di Office 365, Microsoft Teams compreso. Nel senso che andremo a creare delle persone che potranno interagire all'interno di Office 365 e che quindi potremo far interagire anche all'interno di Microsoft Teams di modo che potremo assegnare determinati ruoli a queste persone all'interno di Microsoft Teams e arrivare ad interagire e quindi arrivare a compiere l'operazione principale che si prefigge di compiere Microsoft Teams e cioè l'interazione tra un gruppo di persone. Andiamo quindi ad aprire Office 365 dalla relativa icona che abbiamo posizionato nella barra delle applicazioni e a questo punto andiamo a scegliere amministrazione. Questo è l'ambiente di amministrazione di tutto Office 365, quindi è qui dentro che si inseriranno gli utenti, è qui dentro che si creeranno per esempio delle cassette postali condivise e da qui dentro che si gestirà tutta l'organizzazione aziendale. Adesso pertanto andremo a creare un gruppo di Office 365 all'interno del quale inseriremo degli utenti che poi in Teams all'interno del team di esempio su cui lavoreremo potranno svolgere determinate operazioni come per esempio scrivere messaggi, mettere mi piace, rispondere ad un messaggio che è stato loro inviato. A monte di tutto quindi abbiamo il gruppo Office 365 i cui membri poi potranno far parte di più Teams. È molto importante creare i gruppi Office 365 con una certa logica aziendale in modo che domani possano essere utilizzati in maniera appropriata. Per esempio potremmo dividere i gruppi Office 365 sulla base delle aree geografiche in cui opera l'azienda se si trattasse di una grossa azienda. Di modo che domani potremmo andare a dire inviamo una mail a tutto il gruppo Office 365 degli operatori aziendali che operano in Australia. E prima di dar vita ai gruppi è ovviamente necessario creare coloro che dei gruppi dovranno fare parte cioè gli utenti dei gruppi Office 365 e gli utenti dei gruppi Office 365 vediamo che possono essere creati con dei poteri diversi nel senso che all'interno dei gruppi Office 365 e poi all'interno del team ci saranno degli utenti che saranno qualificati come membri e altri che invece saranno identificati come ospiti. Ovviamente con dei poteri diversi. Ora ci limitiamo a dire che i membri avranno più poteri rispetto agli ospiti che invece ne avranno meno per poi vedere tutti i dettagli dei poteri degli ospiti e dei membri nel prosieguo del corso dove questi argomenti verranno molto approfonditi. Quindi gli utenti per ora ricordiamoci che possono essere o membri o ospiti. Poi sia dei membri che degli ospiti bisogna vedere l'appartenenza e qui andiamo a costruire la nostra architettura del gruppo Office 365 e prima ancora dello stesso ambiente Office 365 cioè quanti gruppi vogliamo creare non li dobbiamo necessariamente creare tutti all'inizio li possiamo creare anche in seguito però ovviamente perché il nostro ambiente Office 365 sia funzionale è necessario individuare con una certa logica i gruppi a monte, a valle i teams e all'interno dei team di tutti i teams poi i vari canali. E quindi qui cosa abbiamo ipotizzato? Abbiamo ipotizzato che c'è questa azienda italiana supponiamo che deve esportare prodotti enogastronomici all'estero e va a costituire il suo ambiente Office 365 dove innanzitutto crea gli utenti come ora noi faremo tra pochissimo quindi ha creato l'utente 1, l'utente 2 e l'utente 3 poi ha immaginato di creare a monte questi gruppi Office 365 quindi quelli che si occuperanno della vendita del vino, dell'olio d'oliva, dei salumi e dei formaggi. e poi è andata a creare questa azienda vari team il team 1 per gli Stati Uniti, il team 2 per la Francia, il team 3 per la Germania e per esempio all'interno del team degli Stati Uniti dove ci sarà ovviamente il canale generale che Teams crea di default si è andati a creare il canale numero 1 per i membri o gli ospiti che si occuperanno delle vendite in Texas quelli che si occuperanno delle vendite in Nevada e quelli che si occuperanno delle vendite nello stato di New York per quanto riguarda gli Stati Uniti come puoi vedere qui accanto c'è questa icona della chiocciola seguita dalla parola tag tag group 3, tag team 1, tag channel 2 questo perché è importante creare questa architettura con una certa logica perché poi per esempio domani potremo creare un tag e con un messaggio di posta elettronica da Outlook semplicemente digitando non tutti gli indirizzi di posta elettronica delle persone a cui dobbiamo scrivere ma semplicemente tag chiocciola tag group 3 scriveremo a tutti gli utenti che si occupano della commercializzazione dei salumi così come se scrivessimo al tag team 1 scriveremo a tutti gli utenti che si occupano che quindi sono all'interno del team 1 che si occupano della commercializzazione dei prodotti negli Stati Uniti se scrivessimo una mail citando semplicemente tag 2 andremo a scrivere a tutti coloro che si occupano della commercializzazione dei prodotti nello stato del Nevada questo ovviamente è molto comodo perché non dovremmo sempre andare a cercare le mail le mail di tutte le persone quando dobbiamo fare una comunicazione unica ad un gruppo di persone ovviamente questa è una prima ipotesi di come potrebbe essere organizzato il nostro ambiente Office 365 e ciascuna azienda lo organizzerà e personalizzerà come vuole io ho immaginato anche una diversa organizzazione dove a monte non ci sono i prodotti ma a monte ci sono le aree geografiche di commercializzazione Stati Uniti, Francia, Germania, Brasile e a valle i team olio di oliva, vino e formaggi come si può vedere l'ultima cosa che vediamo in queste diapositive l'utente 1 fa parte di più gruppi di più team e anche di un canale così come l'utente 2 così come l'utente 3 evidentemente se noi andiamo a prendere per esempio il canale numero 2 di coloro che commercializzano i prodotti nello stato del Nevada come possiamo vedere fa parte di questo canale e quindi anche di questo team l'utente 1 ma ci fa parte anche l'utente 2 quello con la freccia in rossa quindi nel canale 2 del Nevada troviamo sia l'utente 2 che l'utente numero 1 ovviamente quando andremo a scrivere una mail da Outlook citando questo tag andremo a scrivere sia all'utente numero 1 che all'utente numero 2 o a tutti gli altri utenti che saranno all'interno del canale della commercializzazione dei prodotti in Nevada così come del team numero 1 riguardante l'olio di oliva così come del gruppo numero 2 riguardante la commercializzazione di tutti i prodotti in Francia quindi questo è un piccolo passaggio per dire che all'inizio bisogna creare gli utenti quindi ora andremo a creare qualche utente e poi dopo ci occuperemo della creazione dei gruppi andiamo dunque a creare il nostro primo utente poi io ne creerò anche degli altri li farò a telecamera spenta per non annoiarti e per non farti perdere troppo tempo nel seguire il video tutti insieme poi saranno quelli che interagiranno nel nostro gruppo Office 365 e poi all'interno dei teams e dei canali che andremo a creare nelle lezioni successive creiamo quindi un solo utente per il momento uno soltanto poi io a telecamere spente ne creerò degli altri per non farti perdere tempo a vedere più volte lo stesso procedimento in modo che poi tutti possano interagire tra loro nell'ambiente Office 365 nei gruppi e nei teams che andremo a costruire durante queste lezioni e poi come vedremo anche in altri ambienti come per esempio in SharePoint prima di creare un nuovo utente è importante anche puntualizzare che nel caso in cui domani volessimo fare in modo che una determinata persona cioè un determinato utente possa essere inserito come membro del team e non come semplice ospite è necessario fare questa procedura cioè aggiungerlo qui come utente nell'ambiente Office 365 prima di andare in Teams gli ospiti li potremo invitare anche direttamente da Teams ma in quel caso le persone invitate con quel procedimento non avranno la possibilità di poter essere messi come membri del gruppo con tutte le conseguenze che ci sono in termini poi di poteri che per ora abbiamo detto semplicemente che sono di più per i membri e di meno per gli ospiti senza andare a specificare quali cosa che faremo in seguito ciò detto andiamo ad aggiungere un membro che prima di qualsiasi gruppo perché ancora i gruppi non sono stati creati sarà membro dell'organizzazione cioè di questo account Office 365 che adesso in questo corso ipotizziamo essere l'account di questa ipotetica azienda italiana che commercializza prodotti enogastronomici nel mondo per aggiungere un nuovo soggetto andiamo a cliccare qui su aggiungi un utente e a compilare tutti i campi che ci viene richiesto di riempire adesso immaginiamo di inserire il direttore generale di questa azienda italiana che esporta prodotti all'estero supponendo che si chiami Roberto di cognome Rossi e andiamo adesso a compilare il display name clicchiamo nel campo relativo e come puoi vedere Office 365 di default ci propone di visualizzare nel display name il nome e il cognome della persona il display name è molto importante perché è quello che vedremo quando andremo a cercare questa persona per inviarle un messaggio di chat una mail da Outlook quando lo inseriremo in un'attività di planner eccetera e quindi magari andiamo ad identificare Roberto Rossi con un acronimo General Director di modo che quando lo andremo a cercare potremmo subito identificarlo con facilità a questo punto dobbiamo creare il suo account di posta elettronica perché Office 365 nel momento in cui viene inserito un nuovo utente automaticamente va a creare un pacchetto di servizi per questo nuovo utente tra i quali ricordiamo per il momento soltanto l'indirizzo di posta elettronica in Outlook quindi un account di Outlook e un calendario questo che vedi qui a destra dominio è il dominio di questo account di Office 365 quindi questo è il nome della mia azienda servizi e consulenze rd punto microsoft.com quindi tutti gli utenti dell'organizzazione dopo la chiocciola avranno questo dominio quindi adesso supponiamo che questa azienda che esporta prodotti all'estero si chiami servizi e consulenze rd e quindi andiamo a creare l'username per Roberto Rossi e diremo general director quindi la mail di Roberto Rossi sarà generaldirector chiocciola servizioconsulenzerd punto on microsoft.com a questo punto Office 365 ci mette automaticamente le spunte su queste tre opzioni cioè creerà automaticamente una password perché Roberto Rossi possa fare il primo ingresso quando riceverà l'invito ad entrare tra gli utenti di questo account di Office 365 gli chiederà automaticamente di cambiare la password con una password che sceglierà lui al primo ingresso in Office 365 e poi invierà a lui una mail al completamento di queste operazioni una mail dove? al suo account di email personale ora io metto un account di email mio supponendo che quello sia l'account di Roberto Rossi perché poi da quell'account io agendo al titolo di Roberto Rossi andrò a compiere delle operazioni in team per esempio manderò dei messaggi scriverò delle mail agli altri membri eccetera quindi scrivo il mio account di posta elettronica sul quale riceverò questo invito sul quale Roberto Rossi riceverà questo invito quindi andiamo avanti a questo punto Office 365 ci chiede se vogliamo assegnare delle licenze a questo utente oppure vogliamo creare un utente senza licenza noi creeremo un utente senza licenza e poi sarà l'azienda a stabilire se quest'utente dovrà avere anche una licenza Office 365 ovviamente dovrà pagarla però al momento ci è sufficiente inserire un utente senza licenza gli utenti senza licenza poi potranno fare meno cose di quelli che invece hanno una licenza Office 365 ma comunque possono fare già tantissime cose anche essendo inseriti come utenti senza licenza a questo punto andiamo avanti qui potremmo andare ad assegnare dei ruoli a questa persona per esempio potremmo andare a dire che questa persona può essere anche amministratore per il momento non scegliamo niente quindi qui siamo andati avanti non abbiamo creato nessun ruolo potremmo andare anche ad aggiungere delle ulteriori informazioni su questa persona quindi delle informazioni anagrafiche che per il momento non inseriamo andiamo avanti qui ci viene fatto un riepilogo di tutti i dati che abbiamo inserito se i dati sono corretti quindi ricontrolliamo l'ortografia ricontrolliamo l'indirizzo email ricontrolliamo l'indirizzo a cui adesso stiamo spedendo l'invito tenendo presente il fatto che il nome il cognome della persona e il display name possono essere anche cambiati successivamente ritornando qui nell'interfaccia di amministrazione a questo punto andiamo a dire che abbiamo completato le operazioni e vogliamo aggiungere questo utente all'organizzazione di office 365 ecco office 365 ci avverte che quest'utente è stato creato correttamente che al suo account di posta elettronica rdominici 70 chiocciola yahoo.it ha ricevuto l'avviso con le credenziali per entrare nel gruppo office 365 quindi per entrare prima di tutto in questa organizzazione office 365 e domani nei gruppi in cui verrà inserito a questo punto Roberto Rossi ha ricevuto una mail nel suo account personale di posta elettronica che lo informa del fatto che è stato invitato a far parte dell'organizzazione di office 365 la mail in questione è questa qui andiamo ad aprirla e come puoi vedere qui c'è l'account mail di Outlook che office 365 ha creato per lui all'interno dell'organizzazione questa è la password temporanea per entrare per poi andare ad inserire una propria password per fare il login all'organizzazione di office 365 cliccando qui si andrà poi ad inserire per prima cosa questa password temporanea per fare il primo accesso e cambiare poi la password al primo accesso ora non faremo questo procedimento perché sarebbe troppo lungo e ci porterebbe fuori tema nella prossima lezione andremo a vedere tutti i passaggi perché sono un po' lunghi abbastanza complessi ovviamente per motivi di sicurezza perché un nuovo membro invitato possa accedere all'organizzazione di office 365 come puoi vedere adesso tra i membri dell'organizzazione abbiamo anche Roberto Rossi con questo display name Roberto Rossi General Director la sua mail che è stata correttamente generata e se andiamo nell'account email di Roberto Rossi vediamo che è stato avvertito del fatto che è stato inserito nell'organizzazione questa è la mail che è stata creata da office 365 questa è la password provvisoria cliccando qui ed inserendo la password provvisoria e poi andando subito a modificarla con la nostra nuova password e facendo tutti i passaggi che vedremo nella lezione successiva Roberto Rossi diventerà operativo all'interno del gruppo di office 365 e domani all'interno di teams di sharepoint e di altre possibilità operative come accennato in precedenza a telecamera spenta sono andato ad aggiungere altri membri a questa organizzazione di office 365 e dopo aver visto il procedimento di inserimento di un membro relativamente al direttore generale Roberto Rossi ho aggiunto i direttori vendita delle varie aree del mondo di questa ipotetica azienda italiana che commercializza i prodotti enogastronomici quindi il direttore vendite del Brasile dell'Italia della Spagna della Germania della Francia e degli Stati Uniti e adesso che la nostra organizzazione ha dei membri possiamo andare a suddividerli in gruppi e quindi andremo qui su team e gruppi gruppi e team attivi e qui vediamo che ci sono dei team attivi che io sto utilizzando per esercitazioni o anche per lavorare e da qui possiamo andare a dire crea un nuovo gruppo quindi aggiungi un gruppo crea un gruppo di Microsoft Office 365 si possono creare anche altri tipi di gruppi ora vediamo il gruppo Office 365 clicchiamo su avanti e diciamo che adesso andremo a creare due gruppi il gruppo che si occupa delle vendite in America e il gruppo che si occupa delle vendite in Europa quindi creiamo questo primo gruppo che si chiamerà America quindi questo gruppo si occuperà delle vendite in America andiamo avanti qui ci dice assegna dei proprietari cioè io che sono il responsabile informatico dell'azienda e domani tu che farai questo lavoro per un'azienda chi devi mettere come proprietario di questo gruppo quindi proprietario vuol dire che poi quelli che in questa sede verranno messi come proprietari potranno compiere tutte le operazioni quindi aggiungere utenti rimuovere utenti dare permessi per quanto riguarda la messaggistica chi può rispondere chi non può rispondere chi può vedere determinati contenuti e chi no e tante altre cose che poi vedremo in seguito quindi andiamo ad assegnare i proprietari di questo gruppo quindi abbiamo detto questo è il gruppo America e quindi andiamo a dire che i proprietari di questo gruppo sono Benedita Gomes che è la responsabile vendite del Brasile e Mike Smith che è il responsabile vendite degli Stati Uniti clicchiamo su aggiungi e vediamo che questi due nomi ci sono comparsi adesso come proprietari di questo gruppo Office 365 andiamo ancora avanti e qui potremmo andare ad aggiungere dei membri ovviamente domani ci saranno tanti altri membri che si occupano delle vendite negli Stati Uniti e in Brasile e quindi nel gruppo delle vendite in America ma sicuramente in questo gruppo oltre a aver aggiunto quelle due persone come proprietari rimetteremo quelle stesse due persone come membri di questo gruppo e poi diremo che come membro di questo gruppo ci deve essere senz'altro anche Riccardo Dominici che è il responsabile informatico dell'azienda e che quindi dovrà avere sempre una supervisione su tutto e anche Roberto Rossi che è il direttore generale dell'azienda e quindi andiamo a cliccare su aggiungi a questo punto clicchiamo su avanti e qui ci chiede di dare un di scegliere un indirizzo di posta elettronica per questo gruppo quindi il gruppo avrà un indirizzo di posta elettronica per il gruppo stesso oltre che come abbiamo visto un indirizzo di posta elettronica per ciascun utente quando li abbiamo creati quindi qui lo chiameremo vendite America vendite America quindi gruppo vendite America e qui clicchiamo su avanti a questo punto ci chiede se tutte queste informazioni ci stanno bene se non abbiamo commesso errori possiamo cliccare su crea gruppo e quindi il nostro gruppo è stato creato adesso clicchiamo su chiudi e vedete che qui è stato creato il gruppo America andiamo a creare per chiudere questa lezione il gruppo Europa quindi sempre gruppo office 365 aggiungi Europe vendite in Europa andiamo avanti assegna i proprietari quindi qui metteremo direttore vendite Italia Spagna Germania e Francia andiamo ad aggiungerli clicchiamo ancora su avanti aggiungiamo i membri quindi gli stessi direttori vendite Italia Spagna Germania e Francia più il responsabile informatico dell'azienda e più il direttore generale dell'azienda andiamo a cliccare su aggiungi e anche questo gruppo di office 365 è stato creato ti faccio notare che qui al gruppo di office 365 può essere subito associato un team ma per far questo è necessario che gli utenti che poi fanno parte del gruppo siano dotati di licenza office 365 mentre abbiamo visto che per il momento noi abbiamo inserito gli utenti nella nostra organizzazione office 365 privi di una licenza quindi qui possiamo andare anche in questo caso a creare l'indirizzo vendite Europa andiamo a cliccare su avanti qui troviamo come prima il riepilogo e clicchiamo su crea gruppo quindi qui possiamo chiudere e adesso abbiamo anche il gruppo vendite Europa che è stato creato quindi abbiamo visto come creare gli utenti abbiamo visto come creare i gruppi e ora vedremo nelle prossime lezioni come gli utenti e i gruppi potranno interagire all'interno di teams con tutte le operazioni che là dentro potranno compiere in base ai poteri di cui dispongono andiamo adesso a fare il riepilogo della lezione e a vedere l'esercizio da svolgere quindi entriamo nelle diapositive del corso scegliamo la lingua entriamo nel primo argomento introduzione a microsoft teams entriamo nella prima sezione panoramica su microsoft teams e andiamo a vedere la lezione numero 2 creazione dei gruppi office 365 in questa lezione abbiamo trattato questi quattro argomenti quindi l'apertura del pannello comandi di amministrazione di office 365 la struttura di un'organizzazione aziendale all'interno di office 365 la creazione di utenti e la creazione dei gruppi quindi riguardo al primo punto abbiamo visto come entrare nel pannello comandi di amministrazione cliccando su amministrazione dopo aver eseguito l'accesso al nostro account office 365 dopodiché ci si è aperto questo pannello dove appunto possiamo gestire tutti gli aspetti di office 365 quindi gli utenti i gruppi team creare liste email di distribuzione e tante altre funzioni possiamo cliccando qui su impostazioni e poi scegliendo cambia la tua lingua settare tutte queste scritte nella nostra nella nostra lingua poi abbiamo visto come sia importante progettare l'architettura di office 365 in base a quelle che sono le esigenze aziendali e abbiamo fatto due possibili esempi uno in cui a monte nei gruppi abbiamo messo le aree geografiche poi a valle i prodotti da commercializzare in queste aree geografiche e un secondo esempio dove invece a monte abbiamo messo i prodotti da commercializzare a valle nei team le varie aree geografiche dopodiché siamo andati a vedere come si crea un utente in office 365 prima si creano gli utenti poi gli utenti si inseriscono nei gruppi quindi prima si creano gli utenti e poi i gruppi quindi abbiamo cliccato su utenti utenti attivi aggiungi un nuovo utente siamo andati a riempire questa scheda per creare il nuovo utente e dopodiché dopo aver creato un po' di utenti siamo andati a creare due gruppi gruppo america e gruppo europa quindi con questi passaggi siamo entrati sempre nel nostro pannello comandi di amministrazione office 365 abbiamo cliccato su team e gruppi gruppi e team attivi aggiungi un gruppo abbiamo scelto di creare un gruppo di microsoft 365 abbiamo inserito le informazioni di base del gruppo gruppo america e una breve descrizione siamo andati ad assegnare i proprietari a questo gruppo quindi quelli che potranno apportare modifiche per esempio in termini di inserimento o di cancellazione di utenti siamo andati ad aggiungere i membri a questo gruppo e alla fine siamo andati a impostare l'indirizzo di posta elettronica del gruppo che office 365 crea automaticamente andiamo anche in questo caso a vedere i link di approfondimento all'interno di microsoft support quello relativo al pannello comandi di amministrazione di office 365 quello riguardante l'organizzazione di tutto office 365 quello che concerne la creazione di nuovi utenti e quello che riguarda infine la creazione dei gruppi qui come abbiamo visto anche nella lezione precedente abbiamo il file di word per prendere nota degli argomenti che ci interessano relativamente a quelli trattati nella lezione e qui abbiamo il nostro esercizio da svolgere questo esercizio consiste nell'aggiunta di 10 nuovi utenti all'interno del nostro account office 365 e poi la creazione di 4 gruppi aziendali quindi contabilità controllo di gestione risorse umane e venditori e poi nell'inserimento di uno o più di questi utenti che abbiamo aggiunto all'account all'interno dei gruppi quindi questo è un esercizio la parte prima già impostato nella parte seconda dovrai immaginare tu di creare con gli stessi passaggi altri ambienti office 365 io ti ho suggerito la gestione di uno studio legale di un'agenzia di eventi di una palestra ma tu ovviamente potrai sbizzarrirti nella creazione di tutto quello che vorrai quindi finisce qui questa lezione e ti aspetto alla prossima ciao